Per la giornata internazionale dello studente, anche all'Aquila una manifestazione organizzata dal coordinamento regionale Udu 360 gradi con l'Inche Unione degli Studenti L'Aquila. Una mobilitazione per ribadire, anzi denunciare, il disinteresse della regione nei confronti delle tematiche universitarie. Il diritto allo studio per gli studenti non sembra essere una priorità e lo dimostra l'aumento annuale degli doni non beneficiari, lo dimostrano i ritardi nell'erogazione delle borse di studio, lo dimostrano i mancati investimenti nelle residenze pubbliche e nei servizi di ristorazione e mancano anche soluzioni per migliorare la mobilità studentesca. Chiediamo alla regione che si occupi finalmente del diritto allo studio e che finalmente ascolti le nostre rivendicazioni. L'Udu insieme ad altre associazioni universitari e studentesche quali UDS e l'Inc scende qui in piazza per manifestare appunto per un diritto allo studio e quello giusto per tutte e tutti. La chiusura della Campomizi ha danneggiato gravemente tutta la comunità studentesca aquilana, sicuramente quella dei fuorisede che desideravano studiare in questa città e portiamo anche la loro voce. Per gli organizzatori qui non vengono neanche eseguite le direttive nazionali che aumentano le soglie massime di accesso ISE e ISPE per l'accesso alle borse di studio. La Giunta ha modificato le soglie degli anni precedenti con la conseguenza che se sei un studente con ISEE pari a 25.000 euro sarei idoneo a percepire la borsa di studio in molte regioni ma non in Abruzzo. Insomma per queste ragioni la manifestazione ha avuto più vigore che mai con la richiesta di mettere al centro tali temi nell'agenda regionale.